ciao a tutti io sono silvia sono italiana ho 35 anni e sono una tutor da ormai quattro anni insegno italiano e inglese insegno italiano perché è la mia lingua madre e amo l'italiano amo la cultura italiana e mi piace vedere come gli stranieri si appassionino a questa lingua e insegno inglese perché è una lingua molto importante per scoprire il mondo e per poter comunicare con tutti e per me è molto importante durante le mie lezioni creare un'atmosfera amichevole un'atmosfera rilassata un'atmosfera divertente perché a volte imparare una lingua non è semplice a volte frustrante e trovo che quando lo studente si trova a suo agio quando è rilassato quando può fare errori quando si sente a casa dia il meglio di se stesso e nel corso di questi anni ho avuto tanti studenti alcuni dei quali sono diventati amici se volete potete leggere le loro recensioni sotto il mio profilo parlo un po di tedesco un po di francese un po di spagnolo capisco le basi di queste lingue perché le ho studiate e possono venirci in aiuto nel caso non parlaste inglese e durante la lezione di prova generalmente cerco di conoscere lo studente di capire le sue capacità di capire il suo livello le sue abilità in modo da poter creare poi nel corso del tempo delle lezioni personalizzate che riguardino la grammatica la conversazione o l'ascolto tutto questo dipende dalle abilità dello studente e non è importante il vostro livello se siete un livello zero un livello base se siete un livello elementare o un po più avanzato possiamo raggiungere tranquillamente i vostri obiettivi e basta se avete bisogno di altre informazioni potete mandarmi un messaggio sono felice di rispondervi di chiarire i vostri dubbi e spero di sentirvi presto e di fare lezione presto insieme un saluto dall'italia ciao